Il 14 novembre è la giornata mondiale del diabete e l'Associazione Genitori Bambini Diabetici di Grosseto ha organizzato un momento per riflettere sulla felicità ma anche sullo stress. Tutto questo grazie alla presenza di un personaggio come Terenzio Traisci che attraverso la comicità racconta come si può essere felicemente stressati. Capire quali possono essere le strategie di fronte a un momento di stress, quale può essere l'esordio di diabete tipo 1 che ricordo i sintomi all'insorgenza sono tanta sete, tanta pipì e tanta stanchezza. Quindi è un modo per acquisire delle strategie e prospettive diverse per guardare ciò che ci succede. Come si può vincere lo stress oggi attraverso anche il sorriso? Conoscendolo perché spesso lo stress può essere anche il nostro alleato e quindi può essere smuovendo energia quell'alleato che ci porta poi a superare le sfide, a vedere le cose in modo diverso. E in questo anche l'umore perché quando siamo di buon umore sicuramente tutto ci sembra più affrontabile. Per le famiglie di bambini diabetici quanto è importante anche capire la situazione e aiutare il proprio figlio? È importantissimo perché l'esempio è quello che guida poi le persone meglio, quindi più di tante parole e quindi nel momento in cui l'adulto, il genitore sta bene, è sereno, è tranquillo, lucido, sicuramente questo può aiutare e viene trasmesso anche ai figli. Grazie.